Ottimi numeri per Cortona Comics. Il Festival del Fumetto Umoristico a Cortona ha registrato oltre 3.000 presenze nei cinque giorni di apertura. Tra i numeri in evidenza, oltre a quelli del pubblico, ci sono quelli della manifestazione con oltre 60 artisti coinvolti, 40 panel, le mostre e l'area gaming. La manifestazione organizzata da Cortona Sviluppo e l'Associazione Culturale Minotauro ha visto il sostegno di numerosi sponsor ed il patrocinio dell'amministrazione comunale. Siamo al settimo cielo, ha dichiarato il presidente di Cortona Sviluppo, Fabio Procacci. Durante l'organizzazione di questa manifestazione abbiamo riscontrato un crescente incoraggiamento da parte della città e non solo. Tanti commercianti hanno subito sposato questa iniziativa. Cortona Comics, ha dichiarato il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ci ha dimostrato che per far nascere gli eventi servono soprattutto le idee e serve la conoscenza del territorio. Cortona non aveva una manifestazione dedicata al mondo del fumetto, l'ha trovata grazie agli organizzatori ed ora il Comune ha l'obiettivo di farla crescere ancora di più. Vogliamo puntare su eventi che riescano a fare aggregazione giovanile, a produrre creatività. L'evento è stato impreziosito dal concerto di Tananai che ha richiamato tantissimi giovani e la visita sorpresa di giovanotti.